Il quesito è chiaro. Sei d'accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un governo presieduto da Giuseppe Conte insieme al Partito Democratico? Sulla questione che sta dominando la scena politica in Italia, votano gli attivisti pentastellati attraverso la piattaforma Rousseau. 100.000 gli iscritti, secondo il leader Luigi Di Maio, molti meno gli operativi, se dovessero essere confermati i numeri della precedente votazione sul contratto di governo Lega Movimento 5 Stelle. In quella circostanza votarono poco meno di 45.000 persone. Una piccola enclave di militanti, che è l'ultima parola, come più volte ribadito Di Maio. La creatura di Casaleggio potrebbe dunque decidere le sorti del prossimo esecutivo, su cui il premier incaricato Giuseppe Conte sta lavorando. Non un contratto, ma un programma condiviso nei principi, precisa Conte, che punta a chiudere mercoledì o una manciata di ore più tardi. Il cammino non è però esente da ostacoli. Oltre al nodo Rousseau, sul campo restano in piedi la scelta dei ministri e il ruolo del vicepremier. Una casella che potrebbe saltare per far decollare il Contevis, una proposta avanzata dal Partito Democratico che nel puzzle di governo malvedrebbe un premier e il suo eventuale vice Di Maio in testa, entrambi in quota 5 stelle. Vedo un buon clima di lavoro da questo punto di vista, commenta Conte, sono convinto assolutamente che tutti siano disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda il paese.